Ascoltiamo quest'anno nella prima domenica di Quaresima il racconto di Marco. Normalmente è chiamato la domenica della prova di Gesù, delle tentazioni di Gesù, ma Marco ci presenta una narrazione di questa esperienza di Gesù alquanto singolare, innanzitutto singolare per la sua brevità, ma anche per altri particolari. Subito lo spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco il brano del Vangelo della prima domenica. La prima caratteristica che notiamo è questa sinteticità, quasi la conicità del racconto delle tentazioni come noi lo conosciamo nel Vangelo di Matteo soprattutto, dove le tentazioni sono elencate e analizzate. Ma l'altra cosa ci sorprende, una singolare successione, lo spirito, il deserto dove Gesù è tentato e la proclamazione del Vangelo, subito, con una certa urgenza, una certa fretta. Quello spirito che era disceso su Gesù dopo il battesimo, durante il battesimo e che era sceso perché i cieli si erano aperti e con tenerezza si era posato su di lui, subito adesso lo costringe quasi ad andare nel deserto, prima di iniziare la predicazione. Di solito lo spirito è lo spirito che ispira la parola da predicare. Come mai questo intermezzo intervallo del deserto? Nel deserto Gesù rimase 40 giorni, tentato da Satana. Il deserto, questo luogo che è un luogo caratteristico per la storia del popolo di Israele, quasi Gesù prende su di sé un po' la storia di Israele, i 40 giorni del deserto, del popolo uscito dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, prima di entrare nella terra promessa. Anche lì era stato un momento di prova, ma nello stesso tempo di ripresa di una relazione, di un'alleanza. È sempre così. Il deserto da una parte separa, e questo in questo senso è una prova, è un ritiro, è quasi tu ti ritiri, ti distogli, ti togli dalla vita ordinaria e ti separi da tante cose, quasi vivi una spogliazione, vivi l'esperienza del provvisorio e dall'altra parte il deserto ristabilisce dei legami, unisce. Nella Bibbia e nell'Antico Testamento spesso il deserto oltre che come momento di prova, tempo di prova, è visto anche come tempo del fidanzamento, quindi di ripresa di una relazione, di un innamoramento, crea legami particolari. E difatti vediamo che Gesù, tentato da Satana, da questo oppositore della vita, da colui che si pone come ostacolo e tende dei tranelli per distogliarti nel cammino della vita e nel cammino della tua missione, ecco Gesù conclude questa esperienza dei 40 giorni in un modo singolare. Stava con le bestie selvatiche, quasi la vittoria su Satana porta a ricostruire le relazioni anche col mondo animale, un'armonia, diciamo così, quasi un universo riconciliato, un rinnovamento radicale perché si crea un'armonia cosmica e gli angeli lo servivano, sembra quasi di essere nel paradiso, nel giardino dell'armonia, nel giardino della bellezza, della felicità e quindi Gesù è collocato fra la bestia, fra gli animali e l'angelo, ma l'animale ormai è domato, la bestia dice bramosia, l'angelo dice comunicazione, relazione, ecco questa bramosia che ti divide dagli altri è vinta e tu puoi cominciare a vivere una comunicazione, quindi una relazione nuova, a questo punto Gesù può cominciare la predicazione perché ha vinto in sé e ha vinto dentro di sé e intorno a sé ogni forma di bramosia e ha creato la possibilità di un'armonia nuova, di una riconciliazione nuova, la possibilità di una comunicazione, allora predica e che cosa dice, qual è il suo annuncio? Anche qui l'Evangelista Marco è molto sintetico, ci sono due indicativi e due imperativi, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, il tempo ormai è carico, è gravido della presenza di Dio, l'accompimento del tempo è la vicinanza di Dio, il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto, c'è questo legame tra compiutezza e vicinanza, il compimento del tempo consiste nella prossimità di Dio al tempo stesso e alla vita stessa, per cui Dio si è innanzitutto e a partire proprio da Dio stesso ha realizzato una conversione, si è rivolto all'uomo, si è avvicinato all'uomo, Dio si è convertito, Dio si è avvicinato all'uomo, l'uomo può rivolgersi a Dio proprio per questa vicinanza resa possibile dalla sua stessa conversione, quindi l'imperativo, il convertitevi è come una risposta a un dono ricevuto, una reazione, una sintonizzazione col dono ricevuto e questo rivolgersi al Signore che si è rivolto a noi, che si è avvicinato a noi, che si è fatto vicino, ristabilisce una gioia, una gioia, il Vangelo, questo è il Vangelo, questa relazione è il Vangelo, la bella notizia che davvero Satana, il demonio, il diavolo è stato vinto, perché il diavolo, il demonio, Satana che pone ostacoli, li pone sempre suscitando nell'uomo il sospetto, è il maestro del sospetto, la fede nel Vangelo a motivo della vicinanza di Dio è la vittoria sul sospetto perché è il regnare della fiducia dentro la nostra stessa vita, credete nel Vangelo e potete riacquistare fiducia perché quello che Dio vi dice e vi dona è Vangelo, cioè è una bella notizia, è la possibilità per la vostra vita di trasformare il deserto dove ci sono tanti ostacoli, ma c'è anche una possibilità di avvicinamento in un giardino dove l'armonia può essere ristabilita.